L'effetto le fa tornare ad Agrigento a viso scoperto? Bellissimo, prendo un sole, posso abbronzarmi, scherzo, è una bella cosa perché adesso basta nascondersi, dopo tanti anni è giusto ritornare qui da persona libera in tutti i sensi. Lei è un deputato nazionale dopo una campagna elettorale da invisibile, come ha scelto, perché ha scelto il Movimento 5 Stelle? Perché rispecchiava tutto quello a cui io credo, la verità, la giustizia, la legalità, sono persone veramente per bene e hanno un programma che mi rispecchia in tutto e mi hanno dato la possibilità di uscire allo scoperto e mi piaceva proprio il loro modo di fare. Ricordo della strage di via D'Emilio con tante domande e ancora senza risposta. È una strage che ha posto diversi interrogativi, non tanto per la componente di Cosa Nostra, quanto per i noti depistaggi che tutti ormai abbiamo appreso. Certo ora non si tratta più di ipotesi investigative perché sono sorrette da una sentenza di primo grado. C'è stato un depistaggio accertato, resta da capire per quale motivo. I figli chiedono verità? Certo, e questa verità bisogna cercarla anche a costo di mettere a nudo le carni dello Stato. Avete organizzato un convegno con la presenza di una donna che oggi torna a nuova vita. Sì, è stata, devo dire, un'intuizione della collega Faga questa. Devo dare atto che ha pensato all'onorevole Aiello. Ci è sembrato assolutamente la persona adatta anche per questo convegno, visto che l'onorevole Aiello ha cominciato a rendere le sue dichiarazioni a suo tempo proprio al dottore Paolo Borsellino. Quindi in qualche maniera si chiude oggi il cerchio. Noi per motivi organizzativi la commemorazione la celebriamo oggi perché la commemorazione che facciamo oggi si inserisce in un calentario un po' più ampio di commemorazioni organizzate a livello distrettuale dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione Palermo e sotto sezioni di Agrigento, Trapani e Marsala. Quindi anche per non cavallarci abbiamo deciso di dislocare un po' gli eventi. Dal convegno si parla di agenda di mafia, della mafia, e la mente va all'ingrietante scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino di cui si parla ancora oggi. Beh sì, proprio alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio inevitabilmente si parla anche del mistero dell'agenda rossa. Questa agenda che aveva con sé il dottore Borsellino prima di essere ucciso insieme agli suoi agenti di scorta e che a un certo punto è sparita. Sono passati 26 anni e anche la figlia, Fiammetta Borsellino, proprio oggi ha chiesto nuovamente notizie per cercare di capire che cosa è accaduto, perché questa agenda rossa è scomparsa e perché questo mistero continua a durare ormai da 26 anni nonostante siano stati celebrati diversi processi. Grazie a tutti.